Quali sono le malattie del sistema nervoso periferico? Alcune forme legate ad esempio alla tossicità di farmaci e poi, aspetto molto importante, ci sono delle malattie che sono primitive del sistema nervoso periferico. Fra queste le neuropatie immunomediate, delle quali parliamo oggi, e le neuropatie ereditarie, che nell'insieme comunque costituiscono, benché malattie rare, un 40-50% di tutte le neuropatie periferiche. Quindi stiamo parlando di un numero elevato di pazienti che sono affetti da queste malattie. Addirittura, dal punto di vista epidemiologico, soprattutto se parliamo dell'anziano, e come sappiamo la popolazione nazionale, io poi sono ligure, quindi in particolare la popolazione ligure è una popolazione anziana, Se parliamo dell'anziano, addirittura si stima che 600 milioni di soggetti al mondo siano affetti da neuropatie periferiche. Per questo nasce un'associazione che si colloca in un panorama internazionale di associazioni che si occupano di malattie del sistema nervoso periferico. Anche perché nel contesto della società mondiale che si occupa delle malattie del sistema nervoso periferico, che si chiama PNS, Peripheral Neuropathy Society, c'è un gruppo specifico che si chiama INC, che è un consorzio che si occupa di malattie immunomediate. Quindi le malattie immunomediate sono all'attenzione nazionale e internazionale per quello che riguarda sia la diagnosi che soprattutto la terapia. Molto importante da tenere in considerazione per le neuropatie immunomediate sono le possibilità terapeutiche che abbiamo. Le opzioni terapeutiche che sono costituite da immunoglobulina endovena oppure sottocute, da farmaci immunosopressori, corticosteroidi ad esempio, plasmaferesi e quindi abbiamo degli spazi terapeutici. Agganciato al concetto dello spazio terapeutico naturalmente c'è la correttezza e la precocità della diagnosi. Noi dobbiamo essere in grado di diagnosticare una malattia di questo tipo il più precocemente possibile proprio perché abbiamo una terapia a disposizione.